Ciao a tutti ragazzi, ben minuti di questo riso Allora Posso la manca Allora ragazzi Non prende Aspettate Allora ragazzi Siamo in questo nuovissimo vlog Che lo faccio così corto Perché Vi voglio fare vedere il Chubby Bunny Che allora Non lo faccio con i marshmallow Che è quello che ho fatto fare Io lo faccio con le patatine piccole Allora che sarebbero No, queste grosse puttana Ok, sono capite Dai, non posso farvela vedere Non posso farvela vedere Perché non prende interferenza Quindi lo faccio Lo faccio vedere Lo faccio con le scuola E lo faccio con le patatine piccole Ok, sta bene Va bene O Lo faccio con le patatine piccole Lo faccio con le patatine piccole E' un po' di acqua 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 Ragazzi solo che non avete capito cosa ho detto Le ho detto Fatemi masticare un minuto Allora ho visto che una volta Allora praticamente Iniziamo con questa piccola news Cioè praticamente Una volta ho visto che Farid ha fatto un gioco horror E' fatto così Se vuoi che ti guardi Mi dispiace ma ho l'insalata Io uso la patatina Ha fatto così Che mi ha fatto ridere E poi mi sembrava che il Zoco si è impallato Del tutto Scusate se mi vedete Non tanto perchè sento caldo Così caldo che Che domani Domani non c'è scuola E non ci sono nemmeno Andate oggi Si che bello Allora ragazzi Allora ragazzi Prima vi voglio ringraziare Non ci sono Che non ci sono Che non ci sono grosso in bocca questa sì che è complicata no è troppo volante mi metto una fetta coca 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 a perché il cchio vendere dopo ris Wash salicate su lui su fin Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.